si viene a prendere palla il numero 4 ancora Cappello in avanti per il numero 11 Schiavi Schiavi palla sul sinistro, lo esplode, c'è Patrone Dattola, la sponda di testa per Schiavi Schiavi ha la palla sul sinistro, rientra all'interno del campo poi torna su Dattola che si appoggia su Cappello Cappello sul sinistro, direttamente in porta c'è Patrone in qualche modo a respingere il fischio dell'arbitro va Cappello con il sinistro, pallone che rimane in aria Curti non riesce a girarla, poi Romoli allontana, fischia due volte l'arbitro è finito il primo tempo, 1-0 per il Manieri di ieri c'è sempre Cappello con il sinistro, troppo alta la palla vediamo se andrà la battuta lunga in aria decide di servire vicino un compagno che si gira in porta e fa 2-1, è il numero 4 Cappello che si è girato molto bene con il sinistro è insaccato in rete fischio dell'arbitro va Cappello con il sinistro, Patrone deve intervenire per non farsi beffare dal rimbalzo grazie 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 grazie